Domenica 7 maggio a Forio si è ripetuta la magia dell'Ischia Sunset, la manifestazione dedicata allo sport multidisciplinare giunta alla sua dodicesima edizione e che ha visto quest'anno gli atleti impegnati non nel classico triathlon sprint ma nell'aquadron con un chilometro di nuoto e cinque chilometri di corsa. Campo di gara per il nuoto lo specchio d'acqua tra la spiaggia della Chiaia e la Baia di San Francesco mentre il circuito di corsa si è snodato sul lungomare ed il porto. Ad aggiudicarsi la vittoria della classifica assoluta e maschile è stato Giuseppe Cancemi dell'unicusano Posillipo in 32 minuti e 26 secondi. Sono uscito quinto sesso dall'acqua il primo grande nuotatore veramente allungato di penso una quindicina o una ventina di secondi sul secondo e siamo arrivati io, Iervolino, Fimiani e Primavera subito dopo e ho gestito la gara sulla corsa ho visto che Iervolino che aveva sorpassato tutti era il primo non allungava alla fine gli ultimi 400 metri ho deciso di dare io una bella botta di velocità e siamo staccati una ventina di secondi. Io questa vittoria nel mio piccolo la dedico a tutti quanti i casamiciolesi purtroppo questo piccolo paese è continuamente sfortunato prima il terremoto adesso questa frana che c'è stata dai speriamo che vada meglio in avanti perché è veramente un paradiso possiamo definirlo e non si merita tutto questo. A completare il podio Luigi Iervolino della società Terra dello Sport che ha chiuso in 32 minuti e 33 secondi seguito da Mario Fimiani della Canottieri Irno col suo 33 minuti e 7 secondi. Nelle donne la vittoria è andata ad Antonella Ioime della società Il Gabbiano Napoli in 41 minuti e 37 secondi. Ho gestito la gara come sempre sono partita forte a nuoto che è quello dove vado meglio in tutti gli anni l'ho fatto e diciamo che negli acquadron vado meglio dei triatron quindi è stato più facile per me vincere oggi però è il nuoto dove dovevo spingere quello che ho fatto. Seconda è arrivata Maria Bruno dell'Aurora triatron che ha completato la gara in 42 minuti e 51 secondi mentre l'ultimo gradino del podio in rosa è andato a Emanuela Annunziata della società Il Gabbiano Napoli con 43 minuti e 13 secondi. La gara è stata valida quest'anno anche per la quarta tappa del circuito della Magna Grecia e per la seconda tappa del circuito regionale campano richiamando anche atleti da altre regioni d'Italia. Società organizzatrici di questa edizione l'Ippocampus triatron e la forti e veloci isola d'Ischia La gara è stata valida quest'anno.